È con profonda tristezza che comunichiamo la tragica scomparsa di Carlo Conti, noto conduttore televisivo e amato, protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Conti, 61 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale verificatosi la scorsa notte nei dintorni di Milano. L'incidente ha avuto luogo quando il veicolo, guidato da Conti, è entrato in collisione con un'altra auto, causando danni irrimediabili. I soccorsi sono giunti, rapidamente, ma purtroppo il celebre presentatore è stato dichiarato morto. Sul posto, Carlo Conti ha lasciato un impronta indelebile nel cuore degli spettatori attraverso la sua carriera, eclettica, che ha spaziato dalla conduzione di programmi di grande successo alla regia di produzioni di notevole impatto. La sua gentilezza, carisma e talento unico, lo hanno reso un punto di riferimento per migliaia di italiani. La notizia della sua prematura scomparsa ha scosso il mondo dello spettacolo, con numerose personalità che hanno espresso il loro cordoglio. Attraverso i social media, fan, colleghi e amici si sono uniti nel commemorare l'immenso contributo di Carlo Conti all'industria dell'intrattenimento.